Messaggio dell'11 settembre 2011. Condizione degli illuminati, verità eminenti, disagio, vibrazioni, legge di attrazione, come funziona la preghiera, appuntamenti dell'età dell'oro, effetto del suono, parole. Con affettuosi saluti da tutte le anime in questa stazione, questo è Matteo. Miliardi e miliardi di stelle filanti descrivono in modo appropriato il vostro mondo come noi lo vediamo, con innumerevoli scintille di luce, che si radiano dagli operatori di luce e da anime spiritualmente svegliate. È un modo splendido per voi di pensare al vostro mondo ed anche di visualizzarlo, in modo da alzare le vibrazioni più basse di coloro che lo considerano sottosopra in quanto non capiscono i cambiamenti in atto. Gli illuminati lo capiscono e non gestiscono i cambiamenti affatto bene. È come se si trovassero sulle montagne russe che una volta raggiungevano altezze notevoli con poche modeste pendenze e adesso la corsa presenta numerose incerte depressioni. Poiché la base dei cuori e delle menti oscure è la paura, essi ne hanno bisogno per sostenersi e il loro carburante e sanno che si sta esaurendo. Invece di crogiolarsi nei sentimenti di paura, molte persone sono forti, innovative ed ingegnose nell'affrontare situazioni difficili, barattano beni e servizi, condividono risorse ed abitazioni, o ricevono altri tipi di assistenza. La sollecitudine dei collaboratori e la gratitudine degli assistiti stanno generando una luce luminosissima. Per quanto riguarda gli Illuminati, rispetto alla loro precedente ferrea morsa sull'economia globale, non è rimasto loro che un briciolo della loro capacità di manovra. Tutti i loro principali tentativi di atti terroristici dopo l'11.9 sono falliti. I membri e di loro tirapiedi stanno disertando i ranghi. Sebbene abbiano ancora la capacità di manipolare il clima ed originare sismi, le morti di massa e la devastazione progettate vengono ridotte in modo consistente dagli equipaggi delle astronavi e dalla loro tecnologia. L'interesse per la pace continua a crescere in tutto il mondo e le truppe stanche non hanno più voglia di combattere. Le richieste per fonti energetiche alternative al petrolio e all'energia nucleare stanno acquisendo forza, con grande costernazione degli Illuminati, che traggono profitto profumatamente da quelle fonti energetiche. E peggio di tutto per gli oscuri, la loro eterna nemesi, la luce, continua ad intensificarsi. Per aggrapparsi ai fragili resti del loro passato controllo, essi devono auto-rifornirsi e diffondere informazioni piene di paure e l'unico mezzo rimasto loro. Purtroppo per gli sproveduti, in questo gli Illuminati sono maestri. Essi esercitano ancora abbastanza controllo sui media per assicurarsi che nel decimo anniversario dell'11.9 siate sommersi da foto di aerei, che colpiscono le torri ad alte immagini con storie dolorose, tutte strategicamente selezionate per scatenare emozioni di rabbia e vendetta per alimentare la violenza e, prevedibilmente, l'11 settembre faranno circolare notizie di possibili attacchi terroristici. Voi conoscete l'importanza del discernimento in merito a tutte le informazioni nei principali mezzi di informazione, rapporti internet e trasmissioni telepatiche, e ogni volta che ce ne sia l'occasione, per favore informate le persone di quale sia lo scopo delle informazioni largamente pubblicizzate basate sulla negatività. Quanto più in fretta viene repressa la paura, tanto prima i recalcitranti Illuminati non avranno altra scelta, che accettare che la lunga era dei loro avidi sistemi è finita. Non soltanto le loro roccaforti una volta saldamente radicate sono state rimosse, ma essi sono state informati che la loro fine è inevitabile. Individui da civiltà altamente avanzate, che appaiono nel loro aspetto naturale in modo che non ci possa essere errore di sorta sulla loro identità e sulla ragione della loro presenza sul pianeta, li hanno informati delle conseguenze e si continuano a rifiutare di collaborare con le forze di luce. Tuttavia, nessuno nella luce sta sottovalutando la tenacia e l'abilità degli Illuminati a creare il caos ancora per un po'. Dal momento, che l'avidità e la bramma di potere sono così profondamente radicate nei più oscuri degli oscuri, essi ancora non accettano che i loro sforzi per tirare avanti siano inutili. Lo sviluppo di nuovi sistemi, che siano utili a tutte le persone è in corso, tuttavia, molte di queste attività sono ancora secretate, e questo è significativo. La psiche della terza densità ha capacità limitata di assimilare le drammatiche differenze in un colpo solo, soprattutto in concomitanza con le molte verità, che saranno rivelate. La turbolenza nel vostro mondo oggi è la lotta della dualità, la luce contro l'oscurità nelle anime. Delle molte migliaia di persone provenienti da altre civiltà, compresi i reptiliani, che vivono sul pianeta, molti sono nella luce, altri no. La fonte del Creatore è l'essere supremo del cosmo, Dio è l'essere supremo di questo Universo. L'inizio della vita eterna è la totale energia di luce e amore del Creatore e il fine di ogni anima nel corso di molteplici vite e di ritornare alla pura essenza. Ogni persona è un Dio o una Dea, inestrecabilmente ed eternamente connessi con il Creatore, con Dio e l'un l'altro. Le religioni sono diventate il controllo mentale delle masse, e il Paradiso e l'Inferno sono in Terra un unico mondo spirituale. Ogni anima ha vite omosessuali come passi avanzati verso l'androgenia, l'equilibrio delle energie femminili e maschili delle quali le anime hanno bisogno per continuare ad evolvere spiritualmente ed intellettualmente. Per millenni gli Illuminati e di loro Antenati hanno influenzato negativamente ogni aspetto della vita sulla Terra. Alcuni degli individui più potenti sul pianeta sono stati clonati dagli Illuminati, a volte contro la volontà stessa della persona, in caso di morte o di sostituzione della persona viva con il clone, viene mantenuta la continuità di quelle posizioni influenti. Il tempo lineare esiste soltanto sulla Terra, la realtà è che passato, presente e futuro sono una serie di eventi, che accadono simultaneamente nel continuum. La Terra è un anima altamente evoluta su un percorso ascensionale, che si sta avvicinando alla quarta densità e continuerà verso la sua destinazione nella quinta. Potete immaginare la vostra reazione se improvvisamente vi trovate di fronte a tutte queste verità ed altre come i veri colpevoli dell'11.9 insieme all'adattamento ai profondi cambiamenti? Anche con il rilascio misurato delle prove e l'avvio, per quanto possibile, di nuovi sistemi nei mesi a venire, sarà una sfida enorme per i molti, che stanno ancora dormendo inconsapevoli, e la vostra serena influenza sarà enormemente necessaria nei prossimi mesi. Semplicemente rimanendo centrati nella luce, la vostra innata saggezza e forza spirituale vi guideranno in tutti i tentativi di assistenza. Sappiamo che molti di voi stanno vivendo periodi di grande disagio mentalmente, emotivamente o fisicamente. Ci affrettiamo ad assicurarvi che in molti casi, a seconda dei contratti d'anima, queste sono reazioni naturali alla miriade di vibrazioni diverse, che emanano da tutto ciò che sta accadendo nel vostro mondo, in realtà nell'universo, dove si stanno verificando imponenti fluttuazioni energetiche mentre la luce lotta contro l'oscurità. Poiché la Terra è un microcosmo dell'universo ed ognuno di voi è un microcosmo della Terra, siete minuziosamente influenzati dagli eventi universali perché tutto è in relazione ovunque. Tuttavia, siete enormemente più colpiti dalle energie più vicine sul pianeta, dove le alte vibrazioni della luce sono in conflitto con le basse vibrazioni emesse dagli individui oscuri, dal loro cattivo uso della tecnologia, e dall'angoscia e sofferenza fisica, che le loro attività causano. Questo conflitto e le vostre sensazioni di turbamento si attenueranno mano a mano, che la luce continua a sconfiggere le tenebre. Inoltre, voi avete la capacità di aiutare voi stessi per quanto riguarda le vibrazioni. È comprensibile, che la penosa situazione di molti milioni di persone ed animali sia estremamente dolorosa per gli individui sensibili, premurosi, ma per favore non permettete che le vostre emozioni vengano coinvolte nei loro traumi. Le basse vibrazioni della preoccupazione per l'ansia degli altri, la disperazione e soprattutto la paura rompono l'equilibrio di cui avete bisogno per mantenere stabile la vostra luce, e quella rottura non aiuta nessuno di quei molti milioni di persone e nemmeno voi. Attraverso le leggi della fisica, che governano la vita in questo mondo, le basse vibrazioni si manifestano maggiormente e se si catapultano nel brodo universale e vi riportano lo stesso tipo di vibrazioni in maggiore quantità. Le stesse leggi valgono per le vibrazioni elevate di compassione ed amore, naturalmente, ed in misura molto più grande perché la luce in quelle emozioni è di gran lunga più potente della negatività nelle basse vibrazioni. Pensate ad un ventilatore elettrico, quanto più efficacemente funziona quando è impostato su alto. Anche le vibrazioni emotive funzionano così, con la differenza, che un ventilatore deve essere acceso e le emozioni sono le risposte istantanee ai pensieri. Anche i pensieri emettono vibrazioni, ed è per questo che cambiare un pensiero da negativo in positivo automaticamente eleva il vostro spirito. Avete iniziati a vibrare alto. Questa non è soltanto l'idea di un esercizio, che vi può aiutare a sentirvi più a vostro agio, è scienza. Ogni cosa proviene ed è energia, che è neutrale, imparziale e non ha capacità di ragionamento. Senza la capacità di distinguere il bene dal male, l'energia segue semplicemente le istruzioni, che le date tramite i vostri pensieri e sentimenti, ed è qui che entra in gioco la legge fisica di attrazione, o il simile attira il simile. Inviate le alte vibrazioni dell'energia d'amore e scientificamente raccoglierete le grandi messi di ciò che avete seminato. Anche se pregare per se stessi o per una o molte persone o per la Terra è forse il modo più comune per manifestare interesse ed attenzione, la preghiera non è correttamente compresa. Voi la considerate come una petizione formale come il Padre nostro o una richiesta speciale perché qualcosa di buono accada a voi stessi o agli altri o ringraziamenti verbali, come le benedizioni all'ora dei pasti. Tutti questi sono effettivamente aspetti della preghiera perché ogni vostro pensiero, sentimento, ragione ed azione è preghiera tutta la vostra vita e è una preghiera. Come ogni altra cosa nella vita, la preghiera è energia e segue le direzioni, che le date, tuttavia non produrrà necessariamente i risultati che volete. Per quanto profondamente personale e preziosa la vita di ogni anima sia per Dio, ognuna è comunque governata dalle leggi universali. Diciamo che state pregando per la guarigione di una persona cara, e poiché la malattia è tanto grave, temete per la sua vita e pregate urgentemente che non muoia. Due fattori entrano in questo, ed il più importante è che il contratto d'anima di una persona ha sempre la precedenza. Dal momento che non sapete che cosa ha scelto nel suo contratto, la preghiera più utile è per il suo massimo bene. Voi non conoscete il contratto di nessuno, nemmeno il vostro, così quella preghiera, che non ha limiti, è sempre la più utile. L'altro fattore è che l'urgenza nella preghiera frantuma la vostra energia. Questo abbassa il vostro livello vibratorio, e poiché i vostri pensieri e sentimenti sono diretti alla persona, chiamate, voi le inviate vibrazioni altrettanto basse, esattamente il contrario di ciò che volete. Prima parte traduzione di Madda Cermelli Prima parte traduzione di Madda Cermelli